Sono Magda e ti vorrei far vedere come ti puoi registrare come partner. Io ti invito via Whatsapp o via Messenger il link per inscriverti. Vado su Whatsapp e ti mando questo link e tu devi compilare i tuoi dati e inscriverti a Oriflame. Fai clic sul link, si apre il sito di Oriflame Italia e fai clic su Diventa Membro. Diventa Membro e vedrai che qua sarà il mio nome perché io ti invito. Tu devi mettere il tuo numero di telefono, una tua password, qua ti spiega come deve essere la tua password e fai clic su Iniziamo. Dal momento che hai fatto questo ricevi una mail con il tuo codice partner o membro, diciamo membro, che ti iscrivi come membro perché sono due cose diverse. E dal momento che entri sul sito poi con il tuo codice e la tua password, vedrai il tuo nome, in questo caso qua è un esempio, il tuo codice e il tuo sponsor che sarò io. Dal momento che apri questo tuo account di membro, Oriflame, in primis non paghi niente. Se fai il primo ordine avrai uno sconto di 15% per il tuo ordine e 15% di cashback, quindi dal momento che paghi subito avrai una cifra da spendere per il prossimo ordine. Dal momento che ti apri la tua pagina avrai anche tu il tuo link personale che lo potrai mandare a altre persone, invitarle e inscriversi con Oriflame. Su quello che loro ordinano 10% sarà il tuo guadagno che entrerà nel tuo portafoglio virtuale e verrà scalato dai tuoi ordini. Senza nessun obbligo da parte tua, quindi ti sei iscritta, non devi fare ordine, non devi fare niente, non devi ordinare qualche kit, non devi attivare niente. Quindi basta che tu entri nel tuo account, avrai già disponibile il tuo link personale dove sarà composto dal it bar e il tuo nome. Se fai clic su saperne di più potrai anche personalizzare il tuo link, quindi invece del tuo nome potrai fare clic qua e modificarlo come vuoi tu. Io lo lascio così e poi qua c'hai tutti i link da condividere. Questo è il codice da utilizzare anche per le sponsorizzazioni internazionali, per esempio se hai amici in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in altri paesi, loro entrano sul loro sito del loro paese e utilizzano questo codice per iscriversi con te. E vedi dal momento che tu condividi questo link, dai la possibilità alle persone iscritte che anche loro hanno 15% di sconto e tu ricevi il 10% dal valore dell'ordine del loro acquisti per sempre, ok? Indipendentemente quante persone iscrivi. Un'altra cosa molto importante, se vai qua su, vedi, sono queste tre righe, e puoi vedere il catalogo. Fai clic e vedi il catalogo. Aspetta, ok? Sarà il tuo catalogo online, sarà il tuo catalogo personale, perché se tu condividi il link del catalogo, uguale questo link sarà personalizzato con il tuo nome. Faccio coppia. Ti ripeto, tutto quanto compreso dal momento in cui tu hai creato il tuo account. E vado su WhatsApp, diciamo, e mando questo link ai miei amici. Vedi? Avrai il link del tuo catalogo personalizzato con il tuo nome dentro. Chi aprirà il link e vorrà fare spesa, vorrà ordinare i prodotti, queste persone si iscrivono sempre sotto di te, saranno i tuoi membri, che avranno sconto, iscrizione gratuita, quello che hai tu, e avranno anche loro la possibilità di condividere il loro link. E tu avrai 10% sull'ordine che loro avranno. Quindi benefici per tutti. Tu puoi iniziare a guadagnare subito, senza nessun obbligo di ordine, senza niente. Tutto quello che farai, tutta la tua attività, lo potrai vedere proprio dalla tua pagina principale. Per esempio, quando avrai delle persone inserite sotto di te come membre o come partner, poi ti spiego qual è la differenza in un prossimo video, nel portafoglio virtuale ti dirà quanti soldi hai ricevuto dai tuoi membri registrati e quanto è valido, perché sono validi tre mesi questi soldi da spendere. Sono disponibili da subito e validi per i prossimi tre mesi. Spero che ti piace quello che offre Oriflame in questo momento. Se vuoi diventare brand partner, basta che vai al tuo profilo e fai l'aggiornamento. Questo aggiornamento costa 10 euro e ti dà la possibilità di accedere al business, quindi di costruire la tua squadra e di iniziare a guadagnare sul conto corrente. I membri, il guadagno che fanno viene scalato dalla fattura, quindi viene nel portafoglio virtuale, viene scalato dalla fattura. I brand partner ricevono i soldi nel conto bancario. Cosa dici? Sembra interessante?